Questo a che cosa somiglia? Io direi a una lumaca con le ali. E questo? Per me ha una maschera a forma di muso di cane. Sono macchie di inchiostro esattamente simmetriche che insieme ad altre monocromatiche o a colori vengono utilizzate da terapeuti e psichiatri per cercare di delineare dall'interpretazione fornita dal paziente il suo profilo di personalità e il suo funzionamento. L'8 novembre del 1884 nasce l'inventore di questo metodo, lo psichiatra svizzero Hermann Rorschach. Affascinato dalle diverse interpretazioni che alle stesse figure astratte danno i pazienti, Rorschach pubblica nel 1921 la sintesi delle sue ricerche e anche un metodo per standardizzare il test. Muore l'anno successivo, ma il suo lavoro non passa inosservato. Nei decenni successivi i colleghi europei e statunitensi iniziano a sperimentare in ambito psicodiagnostico le tavole con le macchie d'inchiostro e cercano di formalizzarne la interpretazione per rendere il metodo attendibile. Le tavole sono dieci e sono sottoposte al paziente in un determinato ordine, una alla volta. Il paziente deve fornire una risposta, ma non ci sono limiti di tempo. Non ci sono risposte giuste o sbagliate. Il terapeuta può raccogliere informazioni utili alla diagnosi in base al tempo di risposta, all'originalità e anche al motivo per cui si è data una determinata interpretazione. Le variabili sono tante e questo rende questo metodo psicodiagnostico particolarmente complesso.